Parlerò sul tema della sostenibilità e la transizione energetica e specificamente sul tema, sul argomento dei incentivi. Allora noi umani siamo tutti governati, siamo animali governati dai nostri incentivi. Gli incentivi per i soldi, per il potere, per l'amore. E se dobbiamo fare questa transizione energetica, molto difficile, dovremo infatti avere dei cambiamenti negli incentivi per rendere più accessibile la transizione fuori dai fossil fuels.